Idea Web TV, siamo con Henry Trejal e gli faremo qualche domanda in inglese a proposito di questo campionato che è appena iniziato e sulle prossime partite che la Synergy Rappi Fratelli andrà a disputare nelle prossime settimane. Quale è stato il tuo impatto con questa nuova squadra di pallavolo? Quale squadra do you mean? Synergy Rappi Fratelli. Quando io venivo qui, era abbastanza difficile perché le pratiche erano difficili e non ero più acostumato a essere in questo ambiente difficile. È stato abbastanza difficile anche perché l'allenamento è abbastanza duro e non c'era abituato e l'ambiente è nuovo. Adesso è un mese e mezzo che sono qua e ci sto prendendo di più la mano. Adesso abbiamo già avuto il nostro primo gioco, quindi tutto è abbastanza buono adesso. Ok, e credo che hai anche alcune difficoltà con la lingua perché è abbastanza diverso da te, credo. Sì, esattamente. Io solo comprendo un paio di parole in italiano, ma è davvero molto diverso, quindi è abbastanza difficile da imparare. Ci sono anche qualche difficoltà con la lingua, infatti è molto difficile dalla sua lingua madre, quindi sta anche imparando l'italiano. Ma il tuo gioco, cioè sei un campione, sei molto forte, sei preparato. La lingua ovviamente non influenza il gioco. Ok, and are you ready for the next Sunday when you will face with the chema slami per il Santa Croce? Sì, per sicuramente, perché ora con l'incidente anche con l'angelo, si è slogato la caviglia. Si è migliorando. Ma sta migliorando. Ha riuscito a saltare pienamente adesso e quindi sarà pronto. Ok, grazie molto. Of course, no problem.